forse qua non ha l'ID ok in vista l'ID 167 ok come sul mercato grazie per il salvatorio qua non usabili usabili e non usabili 3 zap charge per 5 meriti musica qualcosa avendo avuto torpedo or chi cosa servia a materiale bio a fortuna acceso quante ne abbiamo ma non abbiamo soldi fuori un food ecco qua cavolo ma 25 costa troppo oh io chiudimi nel bagno c'è niente di particolare o perlomeno avere tanti soldi ah qui compri qui vende ok ok non ho fatto caso per 10 ogni uno spero 32 33 vogliamo fare 33 ah non è venduto 10 plus ok per 10 ok 1 1 vale 1 no ho letto immediatamente ok non serve assolutamente a niente questa cosa nomi ma va beh e c'è il kitty bot data questo quando meriti lot of security elements in un sacco di torretta che ci ammazzano appena ci vedono e questo che intende fu al toster giui solo materiali ma in generale cibo no qua 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 è segnato proprio quindi vuol dire che ce n'è oltre normale evidentemente su però non su alcune che non c'è segnato non c'era comunque quindi vogliamo andare qua ma probabilmente moriamo rimandiamo al kitty sbagliato per portare a casa un po di soldi poi se crepiamo crepiamo cosa nello spazio troviamo fino a 75 meriti o in effetti noi potremmo anche non 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 salire su una nave però beh almeno vediamo ok security break qua invece è chiuso non 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 Sì Elm Mi dimentico che lo apre Automaticamente Ok Eh due c'è il motore Ok 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 Vediamo Vabbè poi io sto giocando difficile però Alzerei anche Se fosse per me Ok 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 Che faccia Che faccia Mi piace Come Come Malus abbiamo che ha Basta vita Basta vita vuol dire 200 Lento Che sta malendo di fame Però è fortunata Virginia Prende sempre dei buoni premi dallo spin and win Cioè sarà dalla roulette Boh ci saranno quelli di casino Forse Ok Ho creato un po' di munizione Ok Dice Prego usa pure le cose che ha fatto un precedente cliente Almeno Un po' di munizione Ok Dice Prego usa pure le cose che ha fatto un precedente cliente Al massimo insomma pulisce un po' le macchie di sangue che sono Ehm Vediamo un attimo Ok La imprinter Risulta Vediamo se è cambiato qualcosa qua ma non credo Ci siamo allontanati quindi siamo tornati indietro Deve provare a scendere la seconda profondità a vedere cosa succede se muori Però mi pare di capire che sei allontanata perché prima era in vista Comunque questo ok la nave a crociera di lusso c'è cibo e cibo Tutti i materiali non è male E c'è una warp key da qualche parte C'è praticamente un mescolatore come dire Un rivoltatore della nebulosa che cambia i posti dove recuperare le cose E c'è un boss Ne abbiamo 200 di vite Qua invece Ok nuovo tratto O proiettili eccetera E c'è un Boh cos'è un cuscino No una giacca a forma di piumino Un piumino forse Pad jacket si sarà un piumino Ah e poi i nemici hanno metà della vita Beh andiamo qua dai Direi che si è allontanato il Però per fortuna quello che abbiamo preso abbiamo preso Abbiamo perso tutti i proiettili allora La prossima volta ti devo sapere che sei se sei che sei in una missione disperata non ti conviene portare Perchè quanto pare è rimasto tutto la Eh si Però assurdo C'è porta 167 proiettili così abbiamo perso 167 proiettili Vabbè quelle che erano rimasti Quanto pare Aspetto che la metà della vita Quello del genere vediamo Ma soldi ne abbiamo? 30 Andiamo di là Andiamo di là Metà vera la vita Ho già Ho già fare i t Va beh Eh ha sfondato i vetri Ok Ok per fortuna non Sembra che attraverso le pareti non ci colpisca cosa che sarebbe sensato Però Ma quanti cavolo siete? Eh La fortuna non hanno una gambia Ok Qua togliere il puni Eh Sì Non c'era neanche da 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 C'era neanche da da dazz Neanche da 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 daaa C'era neancca da dubitane anzi anzi, anzi non ci pensavo nemmeno a questa cosa bella, buono, ottimo anzi abbiamo già trovato ok credo che se nasciamo qua e ci nasce il turist sotto comunque diamo l'elm ok, full eh, facciamo ossigeno c'è sì e dobbiamo cercare di pulire bella complimenti alla mia che ho avuto comunque questa situazione help me vai a meno di explode no, ok, sì, gioco cavolo mi ha preso quanto vuole compressore compressore abbastanza di là calm ma no, mi ha preso cavolo, cavolo ok, là nella gene c'è qualcosa ma lo facciamo nel rientro habitation e cos'è hub niente questo generatore PL aiutatemi salve, salve, salve ok ok cosa manca ancora qua manca il generatore c'è un paio di roba subito non c'è un paio di roba Atmosphere, dal generatore c'è un po' di roba, 3 minuti, 313, basta olio, toglietti. Quello, ma ce n'era un altro. Ok, le cariche. Ok, direi che niente, toglietti, basta. Ah, non l'avevo vista. Ok. 150 di vita. Direi che non c'è neanche da... questo è l'olio che è. Oppure c'è quello dell'ossigeno, ma finora... Restrain... Allora, innanzitutto costruiamo questo. Invece, vorremmo un attimo... Rebretter Restrain Pad. Ora ne possiamo costruirlo? Direi di sì, il Bunger, vabbè... Praticamente la bombetta che esplode, che rimbalza, rotola ed esplode, uccidendo persone, vabbè. Questo però io secondo... cioè secondo me mi tenta troppo. E l'avevamo fatto in due colpi e una... Ah, però... Non è salita. Ok. Questo cos'è? Foodbuck. Oh. 4-8. 4-8. Però... Però... Meriti... E plazzo. C'è qualche screw. Le porte non si possono chiudere. E ogni tanto c'è una... Ma no, praticamente si spegne, insomma, si spegne nella potenza dell'energia elettrica. E tutto questo per... Niente. Ma potremmo anche... Questo cosa fa? Ok, carburant, il toaster juice e tutti i materiali. Quindi si potrebbe anche fare questo, questo e poi questi tre. E questi due e scendere. Ok, fu il cashed. Ma perché cashed? Cashed, devo dire, in teoria... Stavo a vedere cosa... Cioè, cashed, vuol dire con tanti, ho capito, però... No. Ho sbagliato. Insomma... La cash, in teoria, è come l'area di memoria, no? Ah, ok, però può voler dire nascondiglio e inteso come deposito segreto, scorta segreta. Quindi è questo, come vuol dire? Che c'è una scorta segreta di ulteriore, evidentemente. Che c'è una nave... Insomma, questa è una nave... C'è un sacco... Shedloads, ma sicuramente vuol dire che ce ne sono tanti. Vediamo se è un termine che usa... Shedloads. Un mucchio, un sacco, una valanga, anche addirittura. Quindi sì, l'ho già visto. Quindi niente, direi di sì. Fare questo percorso. Speriamo che gli screw siano marginabili in qualche modo. Perché anche a livello di danni non... Niente, andiamo lì. Il nostro personaggio... Non avendo più quella... C'è un sacco di fumo che magari nasconde le trappole. Ok, l'obiettivo è attivare il generatore... Che è qua. Per fortuna è già aperto. E' chiuso, quindi... Quanta? Oh! Quanto è stato il nostro cube. Sì. Non lo so, risultano ancora in rosso questi tizi. Ah, vabbè, chiusi dentro in realtà. Bello, bella situazione di EM. Eh, sette minuti di ossigeno. Andiamoci fuori. Porca miseria, moriamo di questo. Non ci posso credere. Eh, è tutto chiuso. Ma va a farti friggere. Cavolo, ma c'ha disintegrato, eh. Non so, non ho visto bene cos'è stato efficace sullo zapper. Prendiamo l'elm. Prendiamo l'elm. Prendiamo l'elm. Non si sentono passi. Non sembra, perlomeno, non... Non è l'immediata vicinanza. Prendiamo l'elm. Stava andando così bene. Poi mi sono panicato, vabbè. Prendiamo l'elm. Prendiamo l'elm. Che c'hai? Cavolo, è una scantata. Eh, sti torretti sono micidiali, ti beccano. Prendiamo l'elm. Prendiamo l'elm. Ho mancato di nuovo. Cavolo, è chiuso, perfettamente chiuso. Prendiamo l'elm. È grossa fregatura questa nave. Prendiamo l'elm. Sì, per carità, intendiamoci. In realtà non è importante per questo personaggio, perché l'unica cosa significativa che gli avevano hanno tolto il malus, ma l'erebrater, cioè il respiratore, il giubbotto antiproietti ce l'abbiamo comunque, quindi non è... Anzi, visto che ormai è morto. Qua. Qua. Betamax 89 ha stato trasportato con Betamax 52. Due a total lack of interest, please hand in all the copies of Betamax 89 to enable swift disposal. Ok, questa era proprio la partenza. Ma... 88 cioè, è una tragedia. Un sacco di giovanile. Due. Il toaster che cos'è? Ah, toaster juice. Una... Mi sbaglio a far l'esca, non serve a niente l'esca. Vabbè. Adesso cosa fa? Ah, flak vest. E c'è anche la terapia. Quindi magari si poteva andare giù qua. Ah, c'è che la flak vest sia importante per forse fare un altro upgrade. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. fuol folder un attimo. E' ma riunio a tutti. Sampe, st